Dovrebbe essere il primo pezzo tutto così dritto, poi iniziano i tornanti, dopo un po' Vai, vai, è dritto! No, che foto? Un filmato! Video! Vai, vai! Vai, che la fratea è via! Che cazzo ne è stato che si fa? A destra, a destra, a destra! E' qua, a volare! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Dai, dai, qui! Saltalo, dai, saltalo! Via, via, via! Aio! E che cazzo? E trova! Pupa! Pupa! Aio! Aio! Cazzo! Aio! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.